Salve a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, io sono Gian ed eccoci a un nuovo Gio Giovedì di cui sono molto in ansia, molto preso, anche perché mi avete detto che questo episodio sarà molto importante e partirà col botto quindi non voglio dilungarmi troppo in questa intro, riassumendo brevemente quello che abbiamo visto Zucchero è riuscito da Roma ad arrivare fino ai nostri eroi e li ha a tutti è stato molto forte in realtà perché comunque è rimasto solo bucerati alla fin fine persino Abacchio alla fine non aveva potuto fare qualcosa, molto bello il suo stand tra l'altro Moody Blues finora è quello che mi è piaciuto di più, soprattutto di potere, di stile, Gold Experience è un po' più figo secondo me ma dovremmo comunque vederne ancora molti, suppongo che almeno uno riusciremo a vederlo oggi potrebbe essere quello in arancia, potrebbe essere quello di fungo, potrebbe essere quello di mista andiamo a vedere ok, è un colpo che ha preso magari quando è stato colpito è una gocciola, cioè cambia così così no, buono, buono lo restano pigliando tutti aspetta è ancora decapitato quindi è la testa no, pobellino la testa gli è caduta che figo, è una patente praticamente identica a quelle italiane e gli ha anche uccito la bocca, diciamo oddio, mi sta oh mio dio, oh mio dio mi sta come perché non risponde la bocca cucita caprito caprito praticamente che ci colonizzano diverse delle terre nel marmo di terraneo sempre in cerchi di località che avessero i panorami in primo saffiato che bella, capri il blu del suo mare e il cibo cristallino e pure come non sta fatta però più lì i bianchi principisti che la rendevano insieme a una fortezza che giro che ha fatto? perché? ma io ho detto solo salito di poco a 10 miliardi di lire vabbè, aspetta, no, sono stupido io probabilmente ha fatto quel giro per evitare di essere seguiti anche se non ha funzionato una piccola cosa volevo chiedermi la statua che c'è qui nella intro da un'informazione perché magari non me la ricordo io è una statua famosa o è fatta appositamente per questa scena di Giorgio? non riesco a ricollegarla, ok? quindi scrivetemi nei fanfacts nei commenti se quella statua è effettivamente una e magari la riconosco se ho il nome arriva Six Bullets episodio 7 direi cominciare a dirci per salta la ferma ok, stavano girando così per evitare di farsi beccare mi viene difficile credere che chi l'abbia agita da solo c'era il compagno effettivamente che non lo sapeva una roba bisogno di rispondere a qualche domanda se non la farai saremo in pericolo saremo? o sarai? in che senso? cosa vuoi fare con te gli occhiali una lenza? c'è la lenza posso immaginarlo la sola idea la sola idea della lenza nella palpa proprio Dio perché? e anche questa è una credenza ok ma cosa sto parlando? non sembra vero oh mio Dio gli sta bruciando l'occhio con la lente cosa sto guardando ragazzi? wow quella è una fighissima ho paura di doverla tagliare questa sce... se gli sta tenendo l'occhio aperto in modo che bruci oh madonna bacchio oh madonna bacchio Giorno no ma sono intesa di mostrarti il mio stand girati dall'altra parte che antipatico che è 45 minuti cavolo può andare un sacco indietro allora mi hanno già preso i quattro il mio stand rimangono solo cucerati e un altro quindi probabilmente qualcuno o è già lì o sta arrivando era quello che era in macchina con lui vuoi c'è te ne ho proposto che qualcuno potesse seguirlo perché ho dovuto fare un giro lunghissimo infatti come avevo detto andrò al motoscaff e ti aspetterò a Capri con un motoscaff si può arrivare a Capri nel apri in 30 minuti non credo non si può parlare ma per oggi il risultato potrebbe non sapere affatto che aspettavano a Capri lo stesso il suo complice ah effettivamente non è detto che sappiano l'uno dell'altro o meglio probabilmente sanno che sono stand user tra di loro ma non il potere dello stand dell'altro con il canale si sospettirà e capirà che è successo qualcosa a Zucca esatto ah bucerati siamo in palestrette con il suo complice di cui si riuscì a sparare adesso con il suo complice di cui si riuscì a sparare adesso con il suo complice di cui si riuscì a sparare con il tuo volo prima questa nave a tracchi dobbiamo far sì che uno di noi arrivi all'isola per prima qui trovi sicuro non ti manchi qualche rotella e oddio con il Jojo è sempre questa domanda erbissime a porsi trasformo questa salvaggione in un pesce facciamosi la prima da lui si può raggiungere l'isola prima ok ho capito è la sua catchphrase il fatto del sogno questo di Bucciarati diventerà un capo e insieme a lui scala che bello come non usa tiraggione solo per fare la transizione come farai a scoparlo oh attenzione mister è dalla sua parte anche se non sappiamo chi è questo tizio sta aspettando che Zucchero arrivi su questa barca non sia più probabile che troveremo un modo di attraversare noi per prima è il suo stand è in effetti vabbè ci penso nella intro aveva una pistola come ho fatto a non pensarlo subito come ho fatto a non pensarlo subito aspetta 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 però avevano dei numeri anche sulla testa voglio rivederli uno due tre manca il quattro ho visto il sette e ho detto aspetta perché è il sette allora forse non sono in ordine vado a controllare e naturalmente manca il quattro è perfetto per questo tipo di situazioni oh che belli che sono guido mista si chiama wow è letteralmente preso dalle foto e le accoppiate abbiamo detto un minuto più me allora un minuto più me doveva incontrarsi questo tipo di cacca capri come ha detto bacchi ci sono un sacco di turisti figurati capri poi come tutti stanno aspettando qualcuno sì ma siamo in jojo cioè si riconoscono le persone che stai aspettando è già andato infatti no è lì che si fanno mangiare ma che vuol dire a parte il fatto che ha ah va salame formaggio pane vino un perfetto italiano l'area di pranzo è passata un pezzo potessi andrei volentieri a quel ristorante laggiù mi sa che non sarebbe una buona idea abbranzare lì proprio di fronte al porto perché perché sospettivesti qualcuno non so che aspettabbi a quel tizio ma lui probabilmente sa che aspetta oh io attacca faccio parte della squadra dei buciallati molto furbo ma perché perché devi mangiare adesso cioè perché apparecchiare tutto so che venite a bianco mi vediamo i minuti se quantissimo non ti fa ansioso potrebbe nemmeno forse persino 5 mi stai tranquillo imperturbabile lui mangia è tutto l'ora di pranzo è un hobbit è un hobbit nessuno si rimette al lavoro prima della pranzata true story un saporitissimo salame toscano figli che sono spero di perdono qualcosa un'ora pensa di fare più sbiliate di avere una porzione più grossa devo dovremmo evitare il minimo sospetto di favoritismo non c'è il numero 4 perché porta a sfortuna e mi chiedo spariscono quando lui spara? potete rimandare il vostro sonnino pomediano dopo che avrò molto dovevamo pure fare il sonnino non esiste scherari fuori a quel sacchetto di plastica guarda come si incoraggiano amici sono troppo fighi ok potrebbe salire andiamo avvicinando furtivamente la postazione mi nascendrò nell'ombra e nessuno mi veda abbiamo riusciuto una comunicazione all'altro di un certo signor zucco dal lagoon ok ho chiamato la capitaneria o comunque lì al porto per fare in modo che venga chiesto magari questo uomo deciderà di essere caldo e non risponderà subito oppure al contrario potrebbe arrivare sempre da entusiasmo pensando che finalmente si è scoperto di non scendere il tesoro è un po' un azzardo la persona che farà la postazione di guardia e rispondere alla chiamata sarà il nostro uomo non è un brutto piano ma non ci cascherei così facilmente e il suo stand funziona un po' come Emperor quindi proiettile a tracciamento visto che probabilmente loro controllano il proiettile o non c'è o non si fida ci si vuole sull'isla a qualche parte forse troppo caldo per secondo la gatta è lì dentro è lì dentro sta usando la radio il nostro uomo è già dentro una postazione di guardia mista è lì no 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 così ti vede dalla finestra l'ansia ragazzi la pista mista no non girarti da quel lato uno degli uomini i bucciarati giorno non ti sente devi andare da lui a questo punto oh bravo oh dimmi che funziona come penso si passano in proiettile fa una staffetta no che figata ti aiuta la vice aggia madonna un colpaccio sono troppo belli ok sono preferito ce l'hanno fatta no vabbè altro non c'è niente da guardare ma anche se ti hanno dato fastidio mi spiace ma ora ho da fare that's a gangster for you è riuscito comunque ad andarsene beh l'ha solo colpito alla gamba fin fine poteva comunque muoversi beh adesso ti basta seguire la traccia di sangue non c'è nessuna traccia di sangue come è possibile adesso non è possibile che si sono messi a scalare è impossibile con quella gamba forse se l'è legata per quello non ci sono tracce di sangue però è arrivato fin lì non c'è nessuna traccia di sangue quando ho così le cose dice a cui ho appena scoperto la gamba però è diventato scoperto dentro di cambio lo dietro di cambio scusate anche dentro non era una brutta idea stende poche a parte come di zucchero comunque trasformava le cose in un preservativo si è messo la guida non possiamo assolutamente lasciarci scavare questa gamba è giorno? non è lui nooo non era lui aspetta qualcun altro ok niente scena finale wow wow sex pistols a parte il fantastico gruppo è anche un bellissimo stand a quanto pare mi piace moltissimo mi spiace a bacchio ma se è già stato superato per quanto mi riguarda molto bello simpaticissimo un potere per niente male che però suppongo sia limitato al numero di proiettili quindi probabilmente può sparare 6 colpi e basta e tra l'altro ha sparato 2 colpi in modo che 2 degli esserini dallo stand andassero e si aiutassero a vicenda gli esserini comunque vengono sparati insieme al proiettile ai proiettili anzi quindi uno per quindi a questo punto mi viene a pensare uno probabilmente deve sempre spararlo soprattutto se vuole fare questo giochetto di far curvare il proiettile alla wanted e suppongo che siano limitati ai 6 proiettili mista mi piace molto come personaggio a parte questa cosa della superstizione numero 4 sembra essere molto intelligente e soprattutto molto leale e capace ha uno stile tutto suo a dire la verità mentre questo compagno di zucchero ancora non sappiamo il nome non era lui alla guida quindi lui ha probabilmente sparato a un'altra persona a caso supposizione di come andranno le cose credo che lui o è riuscito a vederlo alla finestra e quindi comunque ha sparato ma ha riconosciuto che non è lui e quindi magari fa curvare il proiettile in modo che non colpisca il guidatore oppure quella persona è andata e magari si sentirà in colpa e quant'altro lo scopriremo settimana prossima io vi ringrazio tantissimo ragazzi per essere stati qui con me lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se vi fa piacere fatemi sapere nei commenti cosa pensate dei video e fatemi fan fact informazioni sui sui vari stand e quant'altro ci vediamo in live dalle 16 alle 19 la domenica sia su youtube che su twitch io vi ringrazio ancora tantissimo e alla prossima settimana ciao ragazzi iscriviti al canale ciao 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 ciao